L'ottima notizia in tempo di crisi è emersa dall'incontro di ieri tra la direzione dell'azienda e le categorie dei metalmeccanici della CGL Cisle Will. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione delle Acciaierie e è stata comunicata poi ai sindacati. Soddisfazione ovviamente espressa dalla FIOM CGL AGB. La cassa integrazione prosegue fino al termine dell'anno ma almeno ci sono garanzie per il futuro a medio e lungo termine. Conferme arrivano dall'amministratore Amenduni soddisfatto dalle analisi sulle capacità tecniche di altissimo livello delle maestranze della Fonderia di Bolzano. La proprietà ha quindi valorizzato la qualità mettendo in secondo piano il mero aspetto economico. La sola convenienza avrebbe infatti consigliato di portare l'intera produzione della Fonderia a Vicenza. Rimane ora da sistemare il nodo della tutela ambientale. Finita la cassa integrazione si lavorerà probabilmente sui tre turni originari. bisogna quindi procedere con interventi concordati a tutela sia dei lavoratori sia della collettività.